26 marzo 2018 Alessandria Benito Michelon premiato morto oggi pomeriggio ad Alessandria Benito Michelon, 79 anni, ex campione italiano di pugilato, nella categoria medio-massimi, titolo conquistato nella città piemontese il 26 dicembre 1964 battendo ai punti Piero del Papa. Dopo 21 incontri con sole 6 sconfitte, nel 1970 si era ritirato diventando insegnante della, nobile arte. Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti, la prestigiosa fiamma oro Augusta Taurinorum, consegnatagli a Bologna nel 1981 e ottenuta oltre che per meriti sportivi anche per aver salvato dalle acque gelide del fiume Tanoro, ad Alessandria, nel febbraio dello stesso anno, due bambini che stavano per annegare. Molti gli alessandrini che lo ricordano come storico bagnino della piscina comunale, di cui stato custode e conduttore con il vicino palazzetto dello sport, teatro dell'impresa tricolore del 64.